Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un Citroen Jumper del 2019. Come motorizzazione abbiamo un 2002 da 140 CV con 148.000 km per corso. Un veicolo allestimento business. Facciamo la solita panoramica esterna dove partiamo da frontare con le luci diurne a LED e i proiettori halogeni. Un veicolo è ben gommato, ricondizionato. È un Euro 6D ISC, quindi è già quello avanzato. Sensori di parcheggio su posteriori. Nel complesso un veicolo comunque ben tenuto. Sfacciamo questa panoramica esterna e poi guardiamo un attimino la cabina e il vano carico e faremo poi una prova su strada. Petra elettrici, regolazione elettronica degli specchietti retrovisori. Un veicolo che è stato igienizzato. Comandi al volante attivi, bluetooth con comando vocale, radio touch, climatizzatore. Il classico allestimento business per intenderci. Guardiamo anche il vano carico. La pannellatura interna è stata fatta tutta nuova in legno. Qui troviamo i sensori di parcheggio. La pannellatura interna è stata fatta nuova in legno. Adesso andiamo a fare la prova su strada. Allora, partiamo così vediamo un attimo come si comporta su strada. La partenza è buona, non c'è nessun rumore strano. Io adesso è la prima volta che lo provo anch'io, quindi vi so dire proprio nel dettaglio come può essere il mezzo. Ricapitolando, questo qua è un veicolo del 2019, motore 2002 da 140 CV con 148.000 km per corso. È un allestimento business, abbiamo i comandi attivi al volante, la radio e touch con il sistema bluetooth attivo, regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, è comunque una buona comodità. Su strada mi sembra di dire che già come primo impatto il motore risponde benissimo. Due gibollini sul vetro parabrezza ma nulla di che, ve lo segnalo perché così almeno lo sapete già, visto che comunque ormai abbiamo un ottimo riscontro sui video, vi diciamo tutto com'è. Euro 6D ISC come normativa di emissioni, quindi diciamo che andate dappertutto, non avete problemi di circolazione. Il prezzo è esposto chiaramente più IVA. Le marce e l'innesto sono buone, una piccola grattatina tra terza e quarta, mi sembra di aver notato ma nulla di che. Mezzo su strada va benissimo, la meccanica è buona. E' un buon mezzo. Siamo comunque sui 10 quintali se non vado errata di portata, adesso ve lo dico subito. Allora, portata 10.35, ok 10 quintali di portata, quindi comunque caricate bene, nonostante è un L1, H1, caricate bene. Poi sul nostro sito internet trovate target, telaio di riferimento del veicolo, tutte le foto complete, questo video chiaramente, tutti i dati tecnici che sono riportati nella scheda, i nostri recapiti telefonici, indirizzo e-mail, numeri di telefono per contattarci. Rumori strani non ce ne sono assolutamente. Ma al mezzo va benissimo, quindi nulla da dire. Riproviamo di nuovo l'ingresso terza e quarta, ma se l'aspetti giusta non succede assolutamente nulla, anzi, al mezzo va bene. Bene signori, io direi che per questo video è tutto, per qualsiasi informazione, come ho detto poco fa, contattateci per una prova su strada, potete venire tranquillamente anche con il vostro meccanico di fiducia se volete far controllare il veicolo, non c'è nessun problema, nella più totale trasparenza. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione e buona giornata. Ciao a tutti.